Si gioca a porte chiuse al Gino Cannarsa il confronto contro la Re Canatese, ma il pubblico non manca. È posizionata tutta sui balconi, quelli limitrofi, quelli adiacenti, il Gino Cannarsa. C'è qualcuno anche sul tetto che spia una vittoria, quella del Termoli che è ineccepibile contro la Re Canatese. La giornata è stellare, praticamente solare e estiva in Riva l'Adriatico. Il Termoli vuol far un unico boccone di una Re Canatese che viaggia in zona play-out e rischio. Ovviamente di dover fare il post-campionato per evitare la retrocessione nei campionati regionali. Pronti via le due squadre, si studiano, ma il Termoli con la casacca da Bianca ad avere sempre il comando del gioco. Al settimo ci prova Falco, il suo radende va a lambire la porta di Paniccià. Al quindicesimo è Fusaro che va a sfruttare una ribattuta della retroguardia. Carica il sinistro, ma non inquadra lo specchio della porta. La rete nell'aria e nasce al ventinovesimo l'azione di Di Mercurio che viene smarcato nel triangolo da D'Angelo. La chiusura del triangolo è con il sinistro vincente del siciliano che si infila nell'angolino più lontano della porta di Paniccià per il gol del vantaggio. Quello che dai là alla vittoria del Termoli che trova il vantaggio nel deserto del Gino Cannarsa. Al trentacinquesimo ci prova Falco, buona la sua iniziativa, la palla lambisce il palo. Un minuto più tardi è ancora D'Angelo, strepitosissima la sua azione veramente da Serie A con la palla che termina sul fondo. Con le immagini montate da Alessandro Nardella siamo nella ripresa. Il motivo principale del confronto non cambia, è sempre il Termoli ad avere il pallino del gioco. E la re canatese la si vede soltanto alla terzo minuto. Una timida iniziativa con questo tentativo dai 40 metri che in bimbo lascia tranquillamente sfilare a bordo campo. Tredicesimo capitano Bardolini carica il destro, la palla si stampa sulla traversa e torna incredibilmente sul rettangolo di gioco. La pressione del Termoli continua, abbassa la testa di Mercurio al sedicesimo che vola via, piazza il sinistro con la palla che termina alta sulla traversa. Se il Termoli macina gioco vuole il gol, il gol è nell'area, arriva puntuale, l'assiste 10 anni, la conclusione deviata in Porta e di Viteritti che festeggia così il suo diciannovesimo compleanno con il gol. Il terzo personale, il terzo nella stessa rete, proprio lì vale anche il secondo gol per il Termoli. Festeggiano anche i tifosi sotto la curva, sui balconi posizionati da tutte le parti e nel finale l'applauso più bello, quello dei giocatori del Termoli sotto i balconi del Gino Cannarsa per ringraziare i tifosi sempre vicinissimi alla squadra. Il finale dal Gino Cannarsa, Termoli batte le canatese 2-0.